La regina Elisabetta II ha compiuto 95 anni quest'anno. Ma quando è il compleanno ufficiale di Sua Maestà? La regina festeggia due compleanni ogni anno. Il suo vero compleanno è un affare di famiglia più privato, ma il suo compleanno ufficiale è una celebrazione pubblica. Allora, quando è il compleanno ufficiale di Sua Maestà questa settimana e perché ha due compleanni? Quando è il compleanno della regina? La regina ha festeggiato il suo vero compleanno il 21 aprile. Il suo vero compleanno è un affare in gran parte privato, ma di solito l'occasione è segnata pubblicamente da colpi di pistola nel centro di Londra a mezzogiorno. Un saluto di 41 colpi di pistola a Idé Park, un saluto di pistola 21 a Windsor Great Park e un saluto di pistola 62 alla Torre di Londra. Sua Maestà è la più antica monarca della Gran Bretagna fino ad oggi e ha superato la sua trisnonna, la regina Vittoria, come monarca regnante più a lungo nel 2015. Ciò significa che sarà celebrato questo sabato, il 12 giugno. Perché la regina compie il secondo compleanno? Una caratteristica centrale del compleanno dei Sovere è la birthday parade all'aperto conosciuta anche come Trooping the Color. Un secondo compleanno è organizzato per segnare la data se il compleanno effettivo di un sovrano non cade nei mesi estivi. Questo per garantire che ci sia la massima probabilità di bel tempo per la parata, nota anche come Trooping the Color. Punto. Come la regina, il re Edoardo VII non è nato in estate. Quindi mentre celebrava il suo vero compleanno il 9 novembre. Il suo compleanno ufficiale è stato segnato per tutto il suo regno a maggio o giugno nella speranza che il tempo fosse buono per il suo compleanno parata. Cos'è Trooping the Color? Trooping the Color è una parata nel centro di Londra piena di sfarzo e cerimonie con la Housy Old Cavalry. Alla sfilata partecipano solitamente circa 1400 soldati, 200 cavalli e 400 musicisti. Marciano da Buckingham Palace lungo il mall verso Downing Street. La famiglia reale poi segue in carrozze trainate da cavalli o a cavallo. La sfilata termina con la regina e la sua famiglia in piedi sul balcone di Buckingham Palace, salutando la folla sottostante mentre le frecce rosse volano oltre.